Ciao a tutti dai Rompiscatole, oggi andiamo a vedere dalla linea Transformers Hasbro Titans Return, il ritorno dei Titani, andiamo a vedere Ravage, la pantera nera che molti ricorderanno, dalla linea di cassette barra lettori iPod che possiamo inserire nel petto del Titano Soundwave che abbiamo già visto in un video precedente. Cassette barra lettori iPod completamente trasformabili in tre trasformazioni, lettore e altre due che andremo a vedere. Andiamo a vedere frontalmente, si presenta così, adesso c'è un po' di riflesso ma gli adesivi sono molto belli ma sono adesivi, quindi attenzione abbiatene cura, come già ho accennato ora dipingono tutto, non mettono più adesivi che è un bene. Abbiamo il simbolo dei Decepticon, nella parte inferiore si presenta così, nella parte superiore abbiamo il foro da 3 mm per inserire un jack auricolari che entra veramente, di lato niente di che, stessa cosa. Posteriormente troviamo due cose interessanti, troviamo la parte che diventerà il muso dell'aereo e la testa che diventerà la testa della pantera. Procediamo alle trasformazioni. Allora, siate sempre gentili e vi durerà per molto tempo, state attenti a tutte queste piccole parti, fatela scavalcare senza creare danni. Adesso dobbiamo andare a pinzare in questa maniera, stessa cosa qui. Ok. Spostiamo un attimo la testa della pantera per beccare la testa dell'aereo che portiamo qui. Rimettiamo in sede la testa della pantera. Adesso, con questo movimento semplice, bisogna estrarre le zampe posteriori e c'è da fare un piccolo trick che consiste nel andare a posizionare questo incastro, in questa maniera. La zampe posizionata in questa maniera diventerà l'alettone posteriore dell'aereo, della modalità aereo. Andiamo a ripetere il trick di prima, bisogna beccare quell'incastro. Ecco qua la nostra modalità aereo. Io la trovo molto carina, aumenta la giocabilità e la longevità del prodotto. Di fianco, da sopra, il muso come si presenta, la parte inferiore. Da aggiungere che se dovete atterrare, estraete questa parte e è in grado di stare perfettamente appoggiato. Procediamo alla trasformazione in ravage, la pantera. Portiamo fuori la testa della pantera. Portiamo dentro il muso dell'aereo. Allo stesso tempo facciamo uscire quella che sarà la coda. Le ali le disimpegniamo da qui e finiamo di portarle all'indietro. Anche qui, vedete, faccio scavalcare delicatamente e la blocco in quella posizione. Anche qui, faccio scavalcare gentilmente e vado a posizionarla in quella posizione. Adesso c'è da fare una cosa importante. Estendiamo le zampe di ravage. Andiamo a raddrizzare questa parte e a ruotare in questa maniera. Ecco qua. Adesso portiamo giù le zampe. Le pieghiamo in questa maniera. Stessa cosa facciamo di qua. Le zampe anteriori le facciamo sempre molto delicatamente. Dobbiamo fare un bel giretto di 180 gradi per portarle esattamente dall'altra parte. Vedete? Anche questa. Delicatamente. inarchiamo la schiena. Andiamo a posizionare bene il tutto. Ecco qua. Abbiamo ravage. In questa versione è dotata di ali. Eccola qui. In tutta la sua bellezza. Io trovo molto bello questo modello. Per esempio a me non è piaciuta la costosissima versione Masterpiece dove il muso della Pantera è dato da due parti che vengono fatte combacciare. Non mi piace proprio l'idea della testa tagliata a metà che viene aggiunta. Eccola qui. Molto bella. Mi piace veramente molto. Spero questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti. Dal rompiscatole. Grazie. Grazie a tutti.